Oggi è una giornata che è finalizzata a incentivare e sensibilizzare le ragazze a iscriversi alle materie scientifiche, perché il mondo del lavoro sta cercando sempre di più competenze tecniche e specialistiche. Per ridurre il gender gap le ragazze si devono rendere protagoniste in quei settori in cui ci sarà migliore e maggiore probabilità di lavorare. Investire nelle STEM significa anche avvelersi di un insegnamento nuovo che sia in grado di affiancare alle lezioni classiche, quindi in aula, un approccio laboratoriale e collaborativo. Oggi noi presentiamo anche una nuova realtà formativa alle ragazze che sono gli istituti tecnici superiori che garantiscono un'alta qualificazione tecnica. Nelle piccole e medie imprese italiane il 44% dichiara che non riesce a trovare queste tipologie di figure, quindi noi vogliamo valorizzare questo nuovo orientamento tecnico-scientifico anche per le donne, per una maggiore inclusione, ma non solo in termini di parità di genere, ma proprio per un migliore sviluppo economico e dell'empowerment femminile. Io sono responsabile di uno stabilimento produttivo e ingegnere meccanico. Ho fatto liceo scientifico e tutto un percorso basato sulle materie scientifiche, tecniche. Adesso faccio un lavoro che è molto gestionale, anche se richiede delle basi tecniche importanti. Quindi quello che il valore aggiunto sicuramente che queste materie danno è la conoscenza poi di tutti i prodotti in tutti gli ambiti che ti portano anche a una carriera da un punto di vista gestionale. Quello che è importante che nelle aziende pubblicizziamo, sponsorizziamo tantissimo è l'incremento delle donne, perché l'aumento della diversità fa veramente la differenza nei risultati aziendali. Quindi avere più donne in posizioni tecniche, in aziende come quella che rappresento, che è un'azienda nell'ambito dell'energia, aggiungono un valore di confronto, un valore la diversità dà valore. In azienda ho anche delle ragazze che fanno le saldatrici, quindi un mestiere prettamente maschile. E con la loro introduzione non solo hanno dimostrato che una donna può anche saldare, ma hanno anche cambiato tutto l'ambiente circostante che non è più prevenuto, anzi adesso hanno cambiato la cultura di un'azienda. Le figure più richieste sono ingegneri, ingegneri gestionali, ingegneri meccanici, ingegneri chimici, ma anche delle figure tecniche specializzate come per esempio responsabili di qualità, come logistica oppure saldatori. Saldatori è il mestiere più richiesto di sempre in assoluto. Rispetto ai dati che noi avevamo 10-20 anni fa, ora le donne che accedono a questo tipo di lauree sono di gran lunga maggiore, il che ci consente di dire una cosa importantissima, che è tutto un fatto culturale, non c'è nessuna modificazione genetica per cui le donne possano essere meno brave in lauree di tipo scientifico come spesso è stato detto nel corso degli anni. Nel nostro contesto questo è ancora più significativo perché c'è una poca propensione alle lauree STEM al di là dei generi sessuali e quindi è chiaro che in un contesto come il nostro, comunale ma anche regionale, il fatto che si acceda il più possibile alle lauree STEM sia una risorsa per la Calabria ma direi anche per l'Italia, visto che i giovani calabresi poi vanno a lavorare ovunque. Noi speriamo ovviamente che questi giovani e queste giovani calabresi che attraverso un percorso scolastico, che le solleciti e soprattutto le lasci libere proprio psicologicamente dall'idea di non essere adeguate a questo tipo di lauree, ci porti a una maggiore consapevolezza e quindi alla possibilità di avere domani un numero maggiore di studentesse ma anche di studenti che accedono a queste lauree. In questa giornata proprio si sta evidenziando il ruolo della scienza, il ruolo delle materie scientifiche che diventano propulsori di cambiamento, di sviluppo, di innovazione. Noi come regione stiamo procedendo a finanziare dei master di primo e di secondo livello che prevedono una premialità per quanto riguarda le discipline scientifiche e poi vadano a creare dei criteri di perequazione che poi vedano tante donne e tanti uomini in ugual misura avere accesso alla gratuità appunto di questi master che la regione Calabria promuove.